Con la rapida urbanizzazione degli ultimi decenni anche il numero di uccelli che vivono nei centri abitati è aumentato in maniera considerevole e alle popolazioni di storni e piccioni si è aggiunto di recente il gabbiano reale che nidifica sui tetti delle abitazioni creando evidenti disagi ai cittadini. Il fenomeno è probabilmente dovuto a un incremento delle colonie selvatiche, le colonie nelle zone selvatiche stanno aumentando perché la specie gode di protezione giustamente in varie parti del mondo e necessita di nuovi spazi, nuovi ambienti. Cosa meglio delle città? Agli occhi di un gabbiano Palazzo Reale a Napoli per esempio è una parete rocciosa a picco sul mare, un po' più calda, meno soggetta alla predazione da parte dei predatori naturali con a disposizione una grande quantità di cibo. I piccioni fondamentalmente sono il principale fonte alimentare del gabbiano. Per informare sul fenomeno e mettere a punto tecniche di prevenzione adeguate, Lanci ha realizzato uno studio con un gruppo di esperti ornitologi coordinati dal professor Maurizio Frassinet e oggetto di un opuscolo presentato nel corso di un seminario in sala giunta. Un'attenzione anche delle città per un fenomeno che rischia invece con la colonizzazione di portare anche dei problemi ai cittadini. Insomma ci sono molte segnalazioni anche alla nostra città ma in tutta la fascia costiera tirrenica e in alcune città del nostro paese in cui il gabbiano reale con soprattutto il momento della nidificazione può creare seri problemi anche ai cittadini. Il tema è la colonizzazione dei centri urbani italiani da parte del gabbiano reale e vuole essere uno strumento a disposizione di amministratori comunali e cittadini per conoscere la specie e gli aspetti normativi che la tutelano e su come prevenire la nidificazione nei pressi della propria abitazione. È possibile prevenire con questi sistemi molto semplici o assolutamente incruenti perché il gabbiano è specie protetta nel nostro paese che così tengono lontano l'animale e va in zone magari meno abitate. Faccio un esempio, poi nell'opuscolo che sarà messo sul sito web del Lanci, quindi tutti lo potranno consultare per trovare le istruzioni, già frequentare nei mesi di febbraio e marzo il proprio terrazzo tenendolo pulito, uscendo spesso, già fa capire al gabbiano che quel terrazzo è un luogo non sicuro per fare un nido.